C'è il segno a Sulmona e manda il traffico in tilt sulla circonvallazione occidentale. Un tronco è precipitato nel pomeriggio sul manto stradale, bloccando di fatto il traffico con notevoli disagi per i numerosi automobilisti che sono passati nella zona. L'episodio si è verificato nei pressi del parcheggio dei vigili del fuoco. Una pioggia furibonda e il forte vento hanno fatto scaraventare il tronco a terra, ma per i residenti il comune di Sulmona pecca di scarsa prevenzione. Abbiamo inoltrato una richiesta di potatura degli alberi pericolosi al dirigente del quarto settore in data 6 dicembre 2013, incalzano i cittadini. È impensabile che da Palazzo San Francesco non abbiano mai pensato alla manutenzione delle piante. Non bisogna aspettare la tragedia, è necessario mitigare il rischio. Qualcuno oggi poteva rimetterci la pelle, tuonano i residenti che tornano a sollecitare la potatura degli alberi onde evitare di regare un pericolo alla pubblica incolumità.